Ciao a tutte e benvenuto e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi haul Tigotà che non doveva essere un haul nel senso che io sono andata al Tigotà per comprare una cosa, una sola e ho speso 18 euro più o meno ecco. Capita anche a voi vero che non sono l'unica che entra per comprare una cosa e sono uscita con il mondo. Vabbè non sono tantissime cose però sono sicuramente molto più di una e parto subito con quello che ero entrata a comprare e cioè ecco qua il mio ops al contrario ah no è giusto mi sembrava al contrario ecco qua il mio infuso all'arancia rossa della Pompadour buonissimo mi piace da morire da un po l'avevo finito e da un po lo cercavo e lo cercavo all'esse lunga lo cercavo al supermercato che ho vicino i vari due supermercati che ho vicino a casa e non li trovavo. Non so perché un giorno mi è venuta mi è venuto sapete un flash e mi sono ricordata dove l'avevo acquistato al Tigotà infatti lì ci sono parecchi oltretutto parecchi infusi della della Pompadour per cui ero entrata per comprare solo questo e invece niente adesso vi dico che cosa ho anche vi faccio vedere che cosa ho acquistato e allora vi dico anche che quanto l'ho pagato questo l'ho pagato 2 euro e 19 e sono come al solito 20 bustine quante bustine sono non c'è scritto non ci sarà non lo vedo da nessuna parte 20 bustine se infatti sono 20 bustine e lo mettiamo qua allora ecco qua ho preso questo doccia schiuma della neutro beh della neutro med straparlo come al solito va bene dicevo ho preso questo doccia schiuma della neutro med acqua di cocco con estratti di cocco nutriente e fresco non lo so mi ha ispirato questa confezione e ho detto vabbè proviamolo e questo l'ho pagato vediamo un po 1 euro e 35 1 euro e 35 vediamo adesso che fa che fa caldo visto che comunque l'infrescante poi il profumo di cocco mi piace sempre mi piace sempre tanto sempre doccia schiuma ma questa volta ho preso sia doccia schiuma che crema di questa linea della perlie che ho già ho già acquistato avevo già acquistato questo di questo doccia schiuma alla fresia di lanzarote che è a un profumo meraviglioso mi sono comprata anche il profumo alesse lunga perché mi piace da morire non veramente non è un profumo è un acqua spray per il corpo ed è spettacolare io adoro questo adoro questo profumo e ho visto appunto le alti gotà che avevano anche la crema per il corpo e perché non comprarla era lì perché lasciarla lì per cui è crema idratante vellutante per il corpo vediamo sapete che io sono stra affezionata alla mia cera v però magari posso alternarla con questa per avere un profumo in più anche perché per soprattutto esaltare il profumo del doccia schiuma e anche perché la cera ve non ha non ha profumo comunque c'era molto molto delicato e questi li ho pagati vediamo un po il doccia schiuma 2 euro e 50 invece la crema corpo 3 euro e 99 e li mettiamo in parte ecco qua questa volta della cleanians ho acquistato il detergente cremoso delicato attiva antistress eccolo qua lo ho in uso perché lo avevo lo avevo qua in casa l'avevo acquistato un po di tempo fa nuovo nuovissimo infatti l'ho aperto perché avevo finito il mio il mio detergente quello della della dm della balea e e devo dire che mi piace moltissimo è una formulazione in crema non è gel come 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 quello della dm però mi piace veramente molto ha un profumo buonissimo delicato non è non è non è esagerato non dà fastidio infatti è al profumo di fiori di lotto latte di orchidea estratto di malva dalle proprietà emollienti e lenitive veramente un buonissimo profumo e questo appunto è un detergente cremoso delicato attiva antistress per pelli secche o sensibili detergente delicatamente strucca efficacemente e lascia la pelle vellutata e appunto c'è scritto con estratto di malva è veramente ottimo ottimo mi piace tantissimo è molto delicato sulla pelle e devo dire che si detergente veramente molto bene anche perché poi io lo uso me lo me lo passo solo appunto sul viso inumidito e poi lo tolgo con con il pannetto in tipo microfibra e davvero è detergente non rimane più un nessun residuo di trucco ottimo veramente infatti ho visto e l'ho acquistato e adesso vi dico anche quanto l'ho pagato 2 euro e 99 eccolo qua poi vediamo un po' ah ecco basta sono gli ultimi prodotti sono questi e sono guarda un po' maschere tanto per cambiare mi sono comprata delle maschere anche queste in versione doppia o meglio ne ho prese due per tipo perché quando quando arriverà quando arriverà giulia le faremo insieme sono allora questa l'ho già provata e come tutte le maschere questo tipo di maschere in della della garnier sono favolose questa è in maschera nutriente riparatrice una maschera una settimana di trattamento in concentrazione di siro idratante pelle secche e pelle secca che tira con latte di mandorle bio e acido ialuronico e sì in latte di mandorle pensavo fosse al cocco perché invece no al latte di mandorla che sciocca per me l'ho confusa con quella sì e secondo me l'ho confusa con quella di al latte di cocco forse questa non l'ho mai acquistata non mi ricordo più niente non fa niente se è nuova tanto meglio la provo e se non è nuova sicuramente è ottima come tutte queste queste maschere e altra maschera questa volta invece io questa proprio non l'ho mai vista è una maschera anche questa in tessuto super idratante opacizzante con acido ialuronico e tè verde infusa con l'equivalente di un flacone di siro effettivamente queste maschere tutte le maschere della della garnier sono strapiene di siro sono veramente molto molto intrise di siro e poi ne rimane sempre anche nella confezione oltretutto questa sto guardando che anche formula vegana tanto meglio 15 minuti come sempre ed eccola qua questa qui quando verrà giulia ce le faremo sicuramente e questo adesso vi dico subito quanto le ho pagate allora quella alla mandorla un euro e 58 l'una se non ricordo male erano in offerta sì perché io le ho acquisto sempre in offerta e invece questa invece questa al all'acido ialuronico al tè verde l'ho pagata un euro e 55 ed ecco qua questo era tutto il mio tutto il mio haul di tigota spero vi sia piaciuto grazie per essere rimaste fino qui con me vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video ciao